grazie mille prima di tutto vorrei approfittarne per porgere un caloroso saluto dai rolo a tutti i presenti all'odierno dies academicus per noi è un onore partecipare a questa giornata e ne siamo veramente lieti dire due parole su come è nata questa idea questa idea è nata da un incontro tra il rettore il professor massimo filippini e chi vi parla un incontro informale per non dire conviviale dove si è parlato di una possibile collaborazione tra l'usi e la regione del sangotardo e devo dire che da subito è scattata una scintilla una scintilla che probabilmente il vento del contardo ha contribuito alimentare creando un fuoco che ha scaldato un po i cuori di tutti quelli che successivamente hanno creduto in questa idea e hanno collaborato per portare a casa un progetto che oggi si sta concretizzando e di cui tutti noi qui nella regione del sangotardo ci crediamo e ne andiamo fieri